Benvenuti a questo nuovo incontro di ZoomIn, oggi abbiamo il piacere di avere come nostra ospite Barbara Carnevali che ci parlerà del suo libro uscito nel 2020 presso Columbia University Press, Social Appearances, a Philosophy of Display and Prestige. Barbara ti ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito per questa chiacchierata intorno al tuo libro, la nostra moderatrice di oggi sarà Federica Cavalletti, Federica ti lascio subito la parola, grazie. Grazie, allora dico giusto due parole sulla nostra ospite di oggi, Barbara Carnevali è maîtresse, come abbiamo appena detto, alla EHSS di Parigi, ha studiato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e ha ottenuto il dottorato in Filosofia invece a Urbino e poi ha completato la sua formazione negli Stati Uniti e in Francia. È stata fellow presso istituzioni di rilievo internazionale come la Fondazione Fulbright di Chicago e l'Italian Academy for Advanced Studies della Columbia University di New York. Tra le sue pubblicazioni, che comprendono naturalmente anche svariati articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali, segnaliamo il suo volume Romanticismo e Riconoscimento, figure della coscienza in russo, edito per il Mulino nel 2004, e la curatela recente insieme ad Andrea Pinotti, di alcuni dei saggi più significativi di Dorg Simmel, che si intitola Stile moderno, saggi di estetica sociale, uscito per Enaudi proprio l'anno scorso, e un libro molto curioso dedicato alla metropolitana di Milano, che si intitola La linea rossa, Milano e il progetto della modernità, che è uscito credo per ora in ebook, giusto? No, 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 è ancora in, c'è solo la copertina, è ancora. Ok, è un cartonato, ok, allora è un cartonato. Sì, sì, no, no, quindi è l'appunto, esiste in forme di saggi sparsi, ma non ancora come il libro, lo uscirà a novembre, a novembre 11. Ok, lo aspettiamo e nel frattempo stasera discutiamo invece di un altro libro della professoressa Carnevali, che è Social Appearances, a Philosophy of Display and Prestige, edito da Columbia University Press nel 2020, che è una traduzione però sostanzialmente riveduta e ampliata del suo precedente, Le Apparenze Sociali, una filosofia del prestigio, che era uscito per il mulino. Social Appearances è un libro che esemplifica perfettamente e va al cuore della disciplina di cui si occupa prevalentemente Barbara Carnevali e che lega un po' le sue ricerche, che è l'estetica sociale e secondo me un primo aspetto che potremmo provare ad approfondire stasera sarà proprio la natura di questa disciplina, che ricordo come osservava di recente la stessa Barbara Carnevali durante un'altra presentazione, è una disciplina che nel sistema universitario italiano non ha un inquadramento facile e quindi non ha neanche necessariamente una riconoscibilità semplice e forse la variante di estetica più vicina all'estetica sociale che abbiamo in Italia, diciamo, è l'estetica del quotidiano, che però appunto come anche nel libro viene spiegato ha dei punti di contatto ma anche delle importanti differenze rispetto all'estetica sociale, quindi avremo veramente la possibilità di entrare nel vivo di questa disciplina molto originale, molto fructuosa e direi che di tutto questo però può parlarci molto meglio Barbara Carnevali stessa e quindi senza altri indugi le lascio la parola. Beh grazie, grazie mille della presentazione e soprattutto grazie dell'invito, sono molto contenta di discutere con voi il mio lavoro e in particolare questo libro che lo ricordo perché può essere utile per capire che cosa ho cercato di fare, questa è la versione americana, è appunto la riscrittura di un libro che avevo scritto nel 2012 dopo una cosa più classica anche se relativamente che avevo uno studio più classico che ho dedicato a Rousseau e in cui era centrale la questione della sua critica delle apparenze sociali, diciamo che tutto è cominciato in una sorta di risposta alla critica, alla grande denuncia che Rousseau aveva fatto nei suoi discorsi in particolare quando inventando la teoria normativa dell'autenticità, cioè quella che poi dopo è diventata l'approccio morale e in parte anche di filosofia sociale e politica che noi riconduciamo alla questione delle apparenze, cioè rivendicare che c'è una realtà, un io naturale per esempio contro l'io vestito, l'io abbigliato, l'io sociale che si rappresenta in società eccetera. Ecco ho cominciato a lavorare in maniera più teorica sulla questione e avevo scritto questo primo libro che è uscito dal mulino che però lasciava ancora in sospeso una serie di questioni cruciali tra cui in particolare la fondazione antropologica del problema, che è quella poi che nella seconda versione ho affidato soprattutto alla, o comunque ho rifondato attraverso l'aiuto che mi ha dato, gli strumenti concettuali che mi hanno dato, che mi ha dato Plesner. Io ho approfittato per un'offerta di traduzione che mi è stata fatta dall'editore americano che era pronto a tradurre, interessato a tradurre il libro per riscriverlo. Io sono una di quelli che Isaiah Berlin chiamava i porcospini contro le volpi, cioè ho la tendenza ossessiva a riscrivere continuamente la stessa cosa e a ripensare allo stesso pensiero, mentre Berlin diceva che ci sono i pensatori così e invece quelli che hanno una capacità e un interesse di, una curiosità per il mondo e per gli oggetti che li spinge a variare, comunque a cambiare, ad ampliarsi continuamente. E quindi mi sono detta colgo l'occasione per scrivere il libro in maniera più articolata e diciamo adatta allo stile anglo-americano di argomentazione e questo mi ha permesso di appunto di integrare alcune lacune, alcune cose che mi lasciavano insoddisfatta. Poi vi dico la verità, una volta è uscito il libro, a volte mi sono detta valeva la pena fare cinque anni di riscrittura, poi per tornare intorno alla stessa intuizione di base che si era verificata, cioè che si era comunque confermata ai miei occhi. Altre volte invece mi dico di sì perché mi sembra ora tutto tornare meglio, è anche eliminato molte superficialità, molte cose che avevo buttato lì e che poi si sono rivelate inutili. Comunque insomma giudicherete voi del risultato, non è compito mio. Invece per dirvi qual è la, in due parole, qual è stato il problema e l'insieme di questioni che mi hanno portato a scrivere questo libro, oltre a quella che ho ricordato, cioè la mia lotta contro l'autore che avevo studiato e che odio e amo, come spesso succede con i propri autori, cioè Rousseau, c'era uno sconcerto che è bene riassunto dalla famosa frase, citazione di Spinosa che ho messo in apertura dell'edizione americana, cioè la famosa non bisogna piangere, non bisogna ridere della natura umana, bisogna comprendere. Perché io vengo preciso che vengo da una, diciamo dalla tradizione della filosofia, ho lavorato nella tradizione della filosofia morale, sociale, politica, in particolare nell'ambito della teoria critica, quindi diciamo della nuova scuola di Francoforte, Axel Onnet, eccetera. Però per fortuna avevo una formazione da storica della filosofia che è quella che mi ha permesso di non essere troppo vittima delle distinzioni disciplinari come siamo abituate a concepirle oggi nel mondo accademico settoriale, perché già studiando il Settecento certe distinzioni tra discipline non hanno più senso, quindi lo storico della filosofia è un po' costretto ad andare al di là della storia, come dire, dello specialismo interno e delle competenze interne alle singole discipline. Comunque il problema che mi colpiva, erano gli anni in cui ho cominciato a lavorare a questo libro, erano gli anni 90 e gli anni dei primi reality show del berlusconismo, come viene definito, di una politica o comunque del tema dello spettacolo nella politica e nel mondo sociale sempre più accentuato e di un'enorme circolazione di termini come estetizzazione della vita quotidiana, estetizzazione della società, narcisismo generalizzato, i social poi naturalmente hanno amplificato ulteriormente questa sensazione e mi rendevo conto che gli strumenti che io ricevevo o comunque a cui facevano riferimento gli autori della tradizione a cui appartengo appunto, per esempio la nuova scuola di Francoforte eccetera, continuavano a ruotare intorno a un apparato concettuale che Nietzsche avrebbe definito platonico cristiano e è una serie di termini come dire utilizzati senza nessuna riflessività e senza nessun tentativo di aggiornare la cassetta degli attrezzi che rendevano la loro, come dire, le loro riflessioni o le loro critiche, perché appunto spesso si rivendicavano, rivendicavano questo approccio critico a critica dell'estetizzazione sociale, critica del capitalismo estetico, critica del narcisismo, come non so, la critica della cultura di Christopher Lash eccetera, che di fatto riproponevano argomenti vecchi come il cucco, sostanzialmente il tema del feticismo della merce che diventa un po' la chiave per spiegare in chiave, come dire, strutturale, cioè per dire che in fondo è l'economia che costringe attraverso il meccanismo dell'appunto del feticismo della merce a amplificare, intensificare i fenomeni estetici, appunto continuavano a ruotare intorno a un apparato categoriale che era troppo vecchio, tutto che non era aggiornato, che non aveva avuto il coraggio di aggiornarsi, per paura probabilmente di perdere l'aspetto critico. Allo stesso tempo la realtà cambiava, era evidente, cambiavano le forme della soggettivazione, cambiavano le pratiche sociali e gli stessi miei allievi, quelli più riflessivi, mi raccontavano di essere presi da un double bind. Mi ricordo una mia allieva che mi diceva io passo tutta la mia giornata sui social e poi professoressa vengo presa da un senso di colpa perché mi sento alienata, sento di fare una cosa frivole, superficiale. È interessante perché è classico double bind, cioè c'è un mondo che ormai sta allegittimato delle pratiche, delle nuove forme probabilmente di soggettivazione fondate sul rapporto molto più disinvolto e molto più riflessivo anche con le apparenze sensibili e un apparato morale. Lì c'è anche naturalmente l'influenza diciamo millenaria del cristianesimo e del romanticismo che poi vi si è innestato sopra, per cui questa idea che abbiamo una cultura morale che ci dice che l'interiorità è più importante dell'interiorità, che l'autenticità si lega appunto ai fenomeni diciamo legati all'anima e non certo quelli legati all'apparire sociale o alla rappresentazione di noi eccetera. Ecco questo per spiegarvi il problema, ovviamente rivolgendomi a degli specialisti di estetica e di teoria dell'immagine per voi tutto questo può sembrare ovvio perché come dire studiate questi problemi, infatti le cose più interessanti le trovate poi nell'antropologia delle immagini, nella teoria dell'arte, nella nuova estetica appunto ampliata alla teoria dei media eccetera. Quello che mancava però almeno dal mio punto di vista era un punto di accordo tra le appunto prospettive disciplinari che facesse in modo che questo divario, questo ritardo della filosofia sociale e politica fosse colmato attraverso un aggiornamento e un tentativo di appunto modernizzare, eccola chiamerei anche così, i suoi strumenti concettuali e critici. Quindi l'idea era quella, mettere da parte temporaneamente la critica e tutto il moralismo spesso troppo frettoloso che vi è associato, per esempio la categoria di narcisismo e estetizzazione evitare di usarle perché sono già pregiudicate e cercare, facendo un passo indietro di natura quindi antropologica poi sostanzialmente, cercare di vedere dove i meccanismi estetico-sociali si ancorano in bisogni, in predisposizioni a priori della soggettività nella modalità dello scambio sociale partendo per esempio una delle prime, il libro si apre con la constatazione assolutamente banale che quello che noi sappiamo degli altri si fonda su ciò che noi percepiamo di loro questo viene spesso dimenticato nel senso che ogni nostro rapporto al mondo sociale ma anche poi al mondo in tout court è mediato o comunque a priori dalla dimensione sensibile, dalla dimensione della sensibilità quindi partendo da questo presupposto ho cercato di mettere a distanza la questione della critica per recuperarla in un secondo momento, però questo naturalmente poi ve lo dico subito ha creato qualche malinteso con gli esponenti della teoria critica che subito dicono c'è troppa poca critica perché sì è vero che c'è la fondazione sociale però noi vogliamo immediatamente sapere se usare i social è bene o male, non era quello che naturalmente io volevo fare, comunque io volevo semmai appunto modernizzare l'apparato in maniera tale che una nuova rifondazione anche eventuale della questione critica che poi resta sempre viva nel senso che il problema di come governiamo il nostro rapporto con i media o con le apparenze resta ovviamente valido, fosse semplicemente differito nel tempo e secondo aspetto di metodo c'era quello di da un lato inventarmi un metodo io non insisterei tanto sulla questione della disciplina perché in fondo è tale solo come sempre per la nostra università cioè che ci chiede i settori disciplinari e di ragionare, in realtà il libro è uno sforzo per andare al di là delle competenze settoriali e per far dialogare a delle tradizioni di pensiero naturalmente col rischio che c'è sempre quando si fa questo tipo di lavoro cioè che gli estetici ti dicano ah ma noi lo sapevamo e gli altri ti dicano ah ma noi non ritroviamo però lì ci vuole un po' di carità e anche di insomma capacità di mettersi in gioco di accogliere le critiche e quindi di fondare questa fisiologia dell'apparenza sociale che appunto ho chiamato estetica sociale partendo dalla constatazione ovvia che le apparenze così svalutate, così neglette dal pensiero sociopolitico che diciamolo chiaramente ha un inconscio di tipo economico cioè se voi chiedete alla maggior parte dei nostri colleghi che si occupano di teoria sociale o di teoria politica, loro pensano anche se magari non lo espliciterebbero in questo modo che ciò che conta poi alla fine nella società siano le dinamiche profonde di natura materiale di natura economica eccetera, poi ci sono delle eccezioni come Goffman gli interazionisti simbolici eccetera, però questo è un aspetto di inconscio che prevale nella disciplinare che prevale, ecco quindi di rivolgersi all'estetica per andare a cercare quegli strumenti che da sempre, da quando la disciplina è nata da quando si interroga su che cos'è la sensibilità, sui meccanismi di formazione dell'apparenza della loro trasformazione eccetera, ha già sviluppato un arsenale di strumenti di concetti, di metodi che possono essere integrati e fatti dialogare con quelli della filosofia sociale e politica più tradizionale quindi l'estetica diventa appunto la disciplina principe che avendo sempre studiato e riflettuto sulle apparenze insegna anche a riflettere sulle apparenze sociali la seconda, il terzo punto era quello di dovermi costituire un canone cioè mi servivano una serie di autori con cui dialogare e che mi fornissero degli strumenti visto che appunto non c'era un manuale della disciplina e non era neanche possibile trovare semplicemente all'interno dei colleghi, delle persone che condividessero esattamente lo stesso tipo di interessi. In realtà questo aspetto disciplinare questo aspetto di canone è stato più facile del previsto perché benché minoritaria ci sono una serie di autori geniali che hanno in momenti diversi della loro opera hanno riflettuto su questioni analoghe. Allora il primo ovviamente è quello che abbiamo già citato parlando del libro che abbiamo diretto con, curato con Andrea cioè l'esimmel che chiamava oltretutto l'estetica sociale, la chiamava estetica sociologica è il titolo di uno dei suoi primi saggi dedicati al tema in cui lui appunto ibrida in maniera molto spontanea, molto sperimentale i due approcci cioè la nascente sociologia che lui con altri stava inventando e la sua competenza da fine interprete di opere d'arte e di questioni estetiche che appunto lui prova ad applicare a degli oggetti che sono un po' nell'interfaccia tra le due dimensioni. E quindi poi Simmel già presente nella prima versione del libro è diventato ancora più importante nella seconda perché grazie al lavoro che abbiamo fatto con Andrea mi è stato molto più chiaro la coerenza sistematica proprio anche dell'approccio e in particolare ho capito meglio un aspetto che forse avevo considerato secondario incentrandomi molto di più sull'aspetto della comunicazione intersoggettiva che è quello per esempio del ruolo degli ambienti, dei miliei. Il saggio sulla città sulla metropoli, la vita dello spirito è fondamentale non solo per essere stato originale e così influente anche sul pensiero successivo ma proprio perché è una lezione di metodo cioè il fatto di interrogarsi su questa vai e vieni, su questa azione continua reciproca tra le strutture sensibili che ci precedono all'interno delle quali noi interagiamo e viviamo come per esempio la metropoli, il grande teatro secondo Simmel, quindi il grande teatro di visibilità, di messa in scena e quindi luogo della moda, luogo dello sguardo reciproco delle persone che si analizzano attraverso l'apparenza della visiva e non più attraverso il linguaggio e la parola eccetera. Ecco, messe ovviamente aggiornate, queste intuizioni meritavano assolutamente, per esempio aggiornate ai social, meritavano assolutamente di essere sviluppate. Quindi Simmel, primo maestro e in fondo anche direi pioniere e inventore dell'estetica sociale che io preferisco chiamare sociale, non sociologica per ragioni evidenti perché così è più largo, è più filosofica, non si rivolge soltanto agli specialisti di sociologia ma come esiste una filosofia sociale, cioè la filosofia che ha per oggetto la società e le sue relazioni, così può esistere un'estetica che è un'estetica che ha come oggetto privilegiato la dimensione sociale in tutte le sue declinazioni. Poi c'è appunto Plesner che è stato fondamentale per riflettere sulla, sull'antropologia dei sensi e ancora di più direi, e quindi la priori sensibile, sono dei temi su cui i due autori secondo me Simmel e Plesner poi sono riflessività, cioè poi il fondamento del suo pensiero, della famosa dicotomia tra il corpo e il live eccetera. Cioè per dirlo molto semplicemente Plesner mi è servito perché mi ha aiutato a trovare una giustificazione teorica, un argomento teorico contro la tendenza che definirei romantica a considerare l'espressività come qualcosa di immediato e come qualcosa di immediato che lega interno ed esterno in un rapporto che non è spezzato, mentre Plesner in fondo inserisce un elemento di alienazione all'interno già del rapporto del soggetto con se stesso, cioè nel fatto che noi ci vediamo, che ci percepiamo eccetera, quella che lui chiama l'eccentricità. E questo è stato fondamentale perché era quello che mancava la mia critica della tradizione romantica, cioè di questo lunghissimo racconto che tra cristianesimo, ancora volendo platonico, e poi dopo russovismo, insiste sull'idea che prima c'è un'interiorità che si vuole esprimere e poi dopo vengono cercate le forme e le apparenze che ne sono l'immediata appunto espressione e mentre invece che in Plesner tutto questo diventa molto più complesso e soprattutto c'è un rapporto di reciprocità continua tra le due detrale, tra l'esterno e l'interno. Volendo si potrebbe mettere anche Wittgenstein, comunque non è una cosa che ho approfondito nel libro perché sennò diventava un pupurri di autori. Poi c'è Anna Arendt che come sapete nel suo ultimo libro, Nella vita della letteralmente dedica un capitolo che si chiama Appearing alla definizione di quella che lei invece definisce l'appearingness, che sarebbe in un certo senso la dimensione estetica a priori della politica. Non dico della dimensione sociale perché Anna Arendt non amava ovviamente la società per le sue connotazioni moderne e fonda l'estetica perché le interessa appunto la sua dimensione immediatamente politica, però si capisce immediatamente perché in Anna Arendt si trova in un sacco di idee interessanti che possono essere declinate all'interno dell'estetica sociale a cominciare dal fatto che appunto la parola e la vista fanno parte della costituzione del mondo comune e del nostro rapporto con gli altri. Poi Goffman, autore che io metterei obbligatorio nei corsi di filosofia to cure perché è raro leggere un autore così lucido e così chiaro che fonda appunto con la sua idea, con la sua intuizione di base della teatralità della vita sociale, da forma sistematica a quella che è sempre stata una grande intuizione della storia, della cultura, dall'anzia regime ai giorni nostri ma anche prima, cioè che la vita sociale sostanzialmente sia un teatro e obbedisca a dinamiche più che teatrali, chiamiamole rappresentative, in cui la rappresentazione, qua rivengo a Plesner, non è espressione immediata di qualche cosa ma è proprio posizione di qualcosa che è lì perché c'è un vuoto e una rappresentazione nel senso stretto. E poi infine Pierre Bourdieu, autore in realtà che fa parte delle mie letture da Chevette, da Comodino, dai primi anni di università perché mi era servito moltissimo proprio a decifrare alcune dinamiche di tipo socioestetico legate in particolare poi alla vita di Milano e alla, su cui poi sono ritornata come vedete nel libro sulla metropolitana eccetera, cioè se c'è una città estetico sociale in Italia e Milano, Roma volendo lui è stata nella sua fase cattolica, lui è il Vaticano, però invece nel senso modernista è la città di Milano con la sua centralità della pubblicità, di un certo tipo di socialità estremamente estetizzata eccetera. E Bourdieu mi era servito moltissimo per entrare in queste logiche anche per demistificarla ovviamente, la questione del prestigio poi, che è il potere o lo status rappresentato in forma sensibile. Il limite di Bourdieu è che nella sua, diciamo, nelle sue applicazioni lui limita la questione del nesso estetico sociale alla teoria dell'élite, quindi si trattava di ridare alle sue intuizioni una dimensione antropologica più larga perché oggi non sono solo dinamiche verticali, cioè non sono soltanto l'élite immaginate, in particolare quelli francesi che vengono dalla società di corte, che usano le apparenze e le belle case, i bei vestiti per fondare e per legittimare il loro potere come alla corte del XIV, ma sono di fatto tutte le classi sociali, direi ulteriormente i gruppi, senza neanche dare questa connotazione solo di classe, che per esempio interagiscono attraverso stili di vita, si costituiscono attraverso stili di vita, eccetera. Quindi, diciamo, Bourdieu diventa per esempio un ottimo interlocutore di Simmel perché là dove Simmel tende a volte appunto a sopprimere questa dimensione del potere, chiamiamola così, o anche l'idea molto banalmente che le nostre categorie estetiche sono anche il frutto di una società in cui viviamo e quindi a noi piace per il gusto ciò che ci è stato insegnato a trovare bello e in particolare quello che ci somiglia dal punto di vista della nostra classe, del nostro gruppo di appartenenza, e così Simmel invece serve a compensare Bourdieu per altri aspetti. Comunque questa è un po' la mia famiglia di autori che vengono mobilitati nel libro e nei confronti dei quali spesso appunto critico certi aspetti, ne uso degli altri, eccetera. E poi concludo, c'era appunto riferirmi all'estetica come disciplina guida. Definizione di un canone di autori da poter usare e da poter mobilitare per mettere insieme un approccio interdisciplinare perché come vedete appunto ho citato un sociologo-filosofo Simmel, un filosofo-antropologo Plesner, Anna Arendt una filosofa politica, Goffman un sociologo vero e proprio e Bourdieu a sua volta un sociologo. Quindi appunto sono tutti classici però di discipline che di solito non si leggono a vicenda. Comunque non è scontato conoscere questi testi quando si ha una formazione specifica. Infine appunto la definizione della social aesthetics. Quando mi è venuta l'idea di definirla così all'inizio degli anni 2000 non sapevo proprio che la formula fosse stata usata in maniera sporadica da in particolare Arnold Berliant, uno studioso di estetica del quotidiano americano che ha scritto alcuni... ha scritto un saggio in particolare in cui in realtà da un'accezione piuttosto diversa, molto diciamo vicina a una sorta di neoscillerismo, cioè dove difende l'idea che la bellezza armonizza i conflitti anche a livello sociale eccetera. Cioè interessante però non era esattamente quello che stavo cercando e quindi vabbè poi l'ho cercato di dialogare anche con questa tradizione e di specificare le differenze. Lo dico, immagino poi che Federica magari voglia tornare sull'argomento ma diciamo l'estetica del quotidiano mi sembra molto interessante però ai miei occhi pecca di una certa a volte naivete di ingenuità nel considerare che certo fare il piacere di stendere la biancheria al sole o di fare attività quotidiane, è vero che procurano sensazioni che hanno a che fare con l'esperienza estetica propriamente detta però manca quell'elemento critico riflessivo che la filosofia sociale, la sociologia ci hanno insegnato ad applicare cioè l'idea che appunto le sensazioni di gusto immediato e di piacere sono costituite socialmente o comunque hanno una dimensione di costruzione che esiste il potere che appunto della, questo l'aveva già capito Nietzsche cioè che il gusto, il giudizio di gusto è una delle cose più violente e degli elementi più immediatamente istituenti gerarchie che esistano nella nostra esperienza. Cioè la generologia della morale non è solo una generologia della morale ma è una generologia estetica della morale della politica cioè dove il mi piace e non mi piace è automaticamente il gesto che istituisce un ordine sociale e che impone il proprio gusto, quello dominante come il gusto legittimo e quello a cui gli altri si devono, si devono, ecco questo genere di considerazioni mi sembrano del tutto estranei all'estetica del quotidiano come l'ho visto o comunque come l'ho letta e mi sembrano fondamentali per dare una dimensione di spessore. E basta quindi poi la, ecco l'estetica sociale volendo se appunto vogliamo darle proprio una definizione disciplinare un po' più precisa quindi comprende entrambe le dimensioni che la disciplina estetica dalla sua nascita nel settecento e da quel momento in poi ha acquisito cioè da un lato l'elemento della istesis quindi una rivendicazione dell'elemento alla Baumgarten come studio, riflessione sulla sensibilità e sulla percezione sensibile e poi anche l'elemento invece più legato alla teoria dell'arte che oggi può essere declinato per esempio attraverso, in fondo gli stili di vita sono già, come dire, sono al loro modo degli artefatti, comunque delle forme che sono state stilizzate e quindi che sono soggette a dei meccanismi di stilizzazione che possono essere studiati come, appunto, come delle forme estetiche che tu curi. Vi faccio un esempio che mi aveva molto colpito, mi aveva anche dato molta soddisfazione perché confermava quello che stavo, quello che stavo cercando di fare. Quando ho scoperto che nell'enciclopedia, nell'enciclopedia social science la voce gusto era stata scritta da Gombrich, ho detto vedi, cioè la voce stile che serviva ovviamente agli scienziati sociali a definire gli stili di vita eccetera, ho detto vedi per forza perché ci vuole uno storico dell'arte con una capacità oltretutto anche teorica per definire il concetto che altrimenti il sociologo tenderebbe a definire in maniera metaforica o comunque usarlo come nel senso comune senza riflettere sul fatto che si tratta di codici, di stili formali e da qua tutta una serie di conseguenze relative, per esempio il fatto che come si trasmette uno stile di vita, però vita tra parentesi, si trasmette come uno stile estetico, quindi attraverso l'imitazione, attraverso l'egemonia, attraverso la, e non attraverso come vorrebbe la spiegazione del critico sociale tipica, è l'economia che fa sì che uno stile della moda si imponga perché è l'interesse dei grandi produttori di moda, delle case di moda, cioè la moda per esempio è un esempio perfetto dell'interesse di questo approccio perché si tratta di sottrarla alla spiegazione univoca del materialismo storico, cioè è tutta una questione di moda che usa per feticizzare gli oggetti, per vendere i nostri gusti, i nostri bisogni indotti, tra virgolette, mentre invece si vede che come Simer l'aveva capito benissimo è un fenomeno di imitazione sociale e cos'è l'imitazione da Platone ai giorni nostri, è una questione di rapporto con le immagini e di copia di ciò che si vede, di ciò che si percepisce, quindi insomma la moda è un ottimo esempio di fenomeno che come dire trae un enorme vantaggio da questo tipo di approccio, ma potremmo farne una lista completa che poi è quella che quando ho proposto il mio insegnamento all'Ecole d'Istitude ho proposto subito per convincere diciamo i colleghi, cioè il fatto che nel loro vocabolario nel quotidiano, nei loro strumenti di lavoro, parole come o concetti come stile di vita, rituale, cerimonia, status, prestigio, che quello l'ho trovato dappertutto persino in economia, però non viene mai definito, in realtà richiedevano una riflessione o comunque una definizione della componente sensibile di queste parole, perché un rito in primo luogo è qualcosa che si vede, si percepisce, si costituisce insieme, eccetera eccetera, insomma questo è un po' la, ecco la, sto cercando di fare un po' il trailer del libro che poi è costituito in tre grandi capitoli, il primo più fondativo antropologico sulla, appunto, sulla riflessività e anche sulla critica del grande argomento che la tradizione romantica da sempre, da Rousseau in avanti, ma anche nei romantici tedeschi, eccetera, usato per criticare, cioè per criticare, per pensare la questione dell'apparenza sociale, cioè l'enorme paura dell'alienazione della medesima, cioè il fatto che noi sappiamo, come in questo momento in cui ci guardiamo nelle figurine di Zoom, che quelli lì che vediamo siamo noi, ma non siamo noi, e che questa cosa ci inquieta, ci fa sentire sdoppiati, fa sentire che questa immagine che poi può avere una vita indipendente perché può essere riprodotta, paparazzata, rubata, ci possono fare il revenge di vari tipi, eccetera, ha una sua dimensione autonoma, come sempre il nachleben nelle immagini, e questa cosa naturalmente i pensatori, diciamo, io li chiamo romantici per dire una famiglia, questa cosa l'ha rifiutata, Rousseau in primo diceva appunto, vabbè, non mi importa più come gli altri mi vedono, come mi raffigurano, come mi ritraggono nel ritratto di Ramsey, quello che conta è come mi sento io, perché lì è la mia vera natura, e invece secondo me in questa persistenza dell'immagine sociale, delle nostre apparenze, c'è una verità, come dirò, comunque una realtà che merita di essere analizzata, su cui riflettere, cioè che noi restiamo anche per questo, che Marilyn Monroe, con cui si chiude il libro, per noi è anche, cioè è soprattutto quella che vediamo al cinema, è quella che ha lasciato interviste, rappresentazioni di sé, non soltanto quella che rivendicava di essere una bambina, ingenua, eccetera, insomma, quindi appunto secondo me c'è tutto un enorme terreno da dissodare e su cui appunto lavorare insieme connettendo competenze e discipline. Grazie mille e spero di rispondere poi alle vostre domande, non mi rileggo da mesi e mesi, quindi non so neanche più cosa ho scritto. Bene, grazie, grazie molte per questa introduzione. Io direi che da un punto di vista disciplinare o metodologico, come in effetti molto meglio proponeva lei, perché credo anch'io che il punto sia sempre più sui metodi che non sulle discipline, credo che lei sia stata veramente molto esaustiva, quindi io vorrei piuttosto, insomma, proporre un'osservazione magari un po' ingenua, che però ci porta proprio un po' alla struttura di questo libro, a partire dal suo titolo, perché secondo me attraverso le pagine del libro, quando si parla di apparenze sociali, si oscilla un pochino all'interno di uno spettro che nella mia lettura va da un massimo a un minimo di tangibilità e letteralità, che è un po' condensato anche nei due termini che stanno nel sottotitolo, cioè display and prestige. Quindi io vedo da una parte un'immagine letteralmente visiva, quindi l'apparenza in senso stretto, cioè così concreta che può anche essere fotografata e poi eventualmente diffusa sui social, e dall'altro invece l'immagine nel senso di reputazione, che poi si connette chiaramente al prestigio, e invece è un'immagine in senso meno letterale, no? È più un insieme di idee che è un fatto visivo e quindi si afferra più col pensiero che non con i sensi, se un dualismo di questo genere può avere senso. E quindi volevo chiederle, insomma, se anche lei vede un po' questo spettro e quali sono eventualmente le analogie, le differenze tra queste due tipologie di immagini e tutto quello che ci sta in mezzo, chiaramente. Allora, devo dire, la domanda un po' mi spiazza perché non ho mai pensato alla riduzione del secondo polo, cioè al fatto che ci sia questa dimensione di reputazione astratta, perché in realtà il prestigio, come l'ho pensato fin dall'inizio, è proprio il palazzo del rinascimento a Firenze che serve dimostrare il potere dei medici o la chiesa della, come dire, San Pietro pensato per rappresentare sensibilmente il prestigio della chiesa, è il, ancora di più, è il potere, è l'aspetto dello status che è in un certo senso inscindibile della sua rappresentazione sensibile. Quindi in un certo senso era proprio quello che cercavo di integrare, cioè da quell'aspetto astratto che viene studiato dai sociologi della reputazione, eccetera, di integrarlo con questa sua vita materiale e vita percepibile che in forme diverse e declinabili secondo i vari sensi. E da questo punto di vista so benissimo che il libro è, come dire, che il libro è insufficiente perché c'è un'oscillazione tra un primato dell'immagine come, e del visivo come in un certo senso il senso principe della socialità, della dimensione pubblica, eccetera, quindi quello che si è più facilmente associato a questo elemento di status contenuto al suo interno e la coscienza progressiva che avevo invece scrivendo e studiando del fatto che tutti i sensi in realtà sono implicati in questa dimensione e a cominciare da quello più difficile da concettualizzare, quello più soggettivo, meno pubblico, che è il gusto nella sua dimensione diciamo orale olfattiva e che in realtà si rivela, come per esempio Simmel aveva intuito molto bene, quello a livello subliminale più discriminante, cioè quello che immediatamente ci fa reagire all'odore degli altri o alla loro, come dire, la loro carnalità e corporità nella maniera più immediata. Quindi appunto io risponderei dicendo che se c'è questo scarto non era volontario e quindi è una occasione in più per riscrivere una nuova versione o per chiarire meglio questo aspetto, ma che il display diventa l'elemento di, chiamiamola, apertura antropologica dell'umano attraverso la sensibilità al mondo e quindi anche al mondo sociale. Conclusione di questa fondazione antropologica, non è vero quindi che l'esibizione, l'autorappresentazione siano semplicemente sintomi del narcisismo contemporaneo che ci spinge, mentre prima invece si sarebbe vissuto in una chiave, lo traduco in termini storici perché si capisca più immediatamente che cosa intendo, detto anche altrimenti, mentre gli storici hanno sempre riconosciuto che le élite, dai greci all'anzien regime francese, hanno dato un'enorme importanza a questo elemento di autoesibizione e di costruzione poi anche della propria immagine pubblica, in realtà si è sempre pensato un po' romanticamente che invece diciamo il popolo fosse al riparo da queste dinamiche e che quindi fosse una questione semplicemente di critica o di analisi del potere. Questo non è vero, non solo perché tutte le culture popolari a loro volta hanno avuto la loro apertura e quindi il loro display, ma anche per il fatto che oggi questa distinzione comincia a rendersi sempre più amalgamata insomma e quindi in realtà il display diventa una sorta di a priori della, voglio dire di chiunque abbia a disposizione dei media come i social o come un telefonino eccetera. Il prestigio invece è l'altra parola un po' chiave che è quella in cui si invece di questa dimensione diciamo di fondazione antropologica si rivela la dimensione del potere o dell'influenza perché io userei se dovessi dire qual è la, che tipo di potere il prestigio, la sua natura sensibile ci permette di decifrare è quello dell'influenza, cioè l'influenza che non è, che è un potere che passa attraverso tutta una serie di micro percezioni o comunque di percezioni che spesso sono anche a livello subliminale e che sono quelle che poi col principio della gotta, della goccia che buca la pietra fanno sì che i nostri meccanismi di abituazione, di incorporazione eccetera, le influenze sensibili diventino stabili e diventino forme di potere incorporato. Quindi per esempio nella sezione specifica ho riflettuto da un lato sul momento in cui nella tradizione tra fine ottocento e inizio novecento la questione dell'influenza è diventata centrale, quindi tutta quella serie di autori come Le Bon, come Zimmel, come Weber un po' col potere carismatico ma meno, Gabriel Tard eccetera hanno riflettuto su questi meccanismi sensibili profondi a livello micro, sono quelli dove la appunto non sono tanto i soggetti tra di loro ma sono proprio le micro interazioni a contare e poi chiaramente c'è sullo sfondo l'idea che oggi questa cosa è ritornata al centro dell'attenzione e gli influencer sono questi, cosa fanno attraverso la loro, in questo caso soprattutto la loro visibilità, la loro immagine insomma, però insomma abbiamo visto che contano anche le parole e sono effettivamente capaci di provocare, di spostare, di creare delle cascate delle sociali, dei movimenti di passaggio effettivamente di azioni e di influencer. Quindi ecco sono direi, difenderei l'unità di questi due concetti che non sono diversi, è diverso il tipo di fuoco e il fatto che il primo riguarda più che altro questa esposizione che riguarda la condizione umana to cure e la sua declinazione contemporanea e la seconda questa dimensione del potere che anche in questo caso dell'influenza ha una dimensione più antropologica e una dimensione oggi che diventa più sociologica perché effettivamente è tornato alla luce. Certo, chiarissimo, io voglio dire il preciso che non era una critica di disorganicità, cioè era molto chiara la radice sensibile anche del concetto di prestigia, quindi non vedevo neanche uno scarto tra i due. In questo caso non si preoccupi perché a me piace molto il dibattito all'anglosassone quindi aspetto che arrivino persone che mi chiedono. Ecco, no, invece non volevo fare la macchina. Era una domanda più, va bene. Ok, va bene, allora adesso passiamo la parola ad Andrea. Eccomi, grazie, grazie Barbara. Senti, hai citato Weber qui rispondendo a Federica e tutto il tema del disincanto del mondo sembra invece nel tuo libro essere contestato da una riaffermazione della magia, dell'ipnosi, della suggestione. Ora da Beniaminiano ti chiedo, visto che hai dedicato delle belle pagine alla questione dell'aura, ti chiedo che fine faccia la nozione di aura in questa tua analisi. È vero che Beniamin parlava della distruzione dell'aura, della decadenza dell'aura, che non si capisce bene cosa vuole dire, lì si sono spesi tanti fiumi di inchiostro, però ammetteva in certe notarelle e paralippomina al saggio sull'opera d'arte e l'aura buttata fuori dalla porta dalla riproduzione fotografica rientra poi dalla finestra nelle forme di riauraticizzazione dell'eroe sportivo piuttosto che della star del cinema hollywoodiano. Da questo punto di vista mi pare che il tuo libro sia anche una bella occasione per ripensare questo concetto in una maniera non beniaminiana, nel senso della vulgata beniaminiana. E l'altra cosa che ti volevo chiedere è se hai mai pensato di rinunciare al termine apparenza? perché galetticamente sembra che in qualche modo se tu lo affermi come lo affermi così potentemente a partire dal titolo del tuo libro che sia una rivendicazione di uno dei due poli che finisce sempre per tirarsi dietro l'altro in qualche modo, anche se è negativo, diciamo così. e allora mi domandavo se tu avessi mai accarezzato l'idea di forse coniare addirittura, tu lo hai detto, ci portiamo dietro dei dualismi, il dentro e il fuori, l'autentico e l'inautentico, la profondità e la superficie, ma in qualche modo forse anche Nice ci ha insegnato che non è sufficiente, o Heidegger, se vogliamo, dopo di lui, riaffermare uno dei due poli di contro all'altro perché l'altro poi, non dico sparisca, ma che sia, cioè rimaniamo comunque catturati all'interno di questo tipo di dualismo. E allora, non lo so, è ovvio che inventai... Non sei il primo che me lo dice, me l'ha suggerito Natalia Einig un po' di anni fa e quindi ero, diciamo, ero allertata e la decisione di conservarlo è stata volontaria pur sapendo che il rischio del malinteso era evidente e per esempio durante la mia discussione di Ash Derdi qualche tempo fa un filosofo analittico che era il mio presidente di commissione e che aveva cominciato a leggere il libro pensando che fosse una critica delle apparenze e lui è un realista poi da tutti i punti di vista era gelosissima, ha detto ma lei è un po' post-moderna. Cioè, sì, però comunque, questo in realtà diciamo, la mia decisione di conservare il termine è stata puramente direi non strategica nel senso commerciale strategica nel senso comunicativo cioè volevo che si capisse subito di che cosa si stava parlando nel senso comune cioè la parola è carica di uno spettro appunto semantico malgrado la sua appunto l'essere contaminata dalla dicotomia inevitabile della sua ricchezza fenomenologica e quindi io faccio parte di quella famiglia che forse anche perché siamo venuti dopo i francesi hanno questa mania che bisogna inventare le parole ogni due minuti e a me è sempre piaciuta più la tradizione che cerca di fare di usare quelle che ci sono e di risemantizzarle però è vero che probabilmente forse adesso può essere venuto il momento di cominciare a pensare a un concetto che si sostituisca a questo in una maniera più precisa per evitare effettivamente che si porti dietro poi questo carico di dicotomie d'altra parte lo stesso Nietzsche le chiamava così quindi poi non aveva diciamo non c'era l'intenzione espressa di farci sopra una decostruzione così completa e capillare però insomma ci tenevo ci tenevo anche ad avere dei lettori probabilmente che cercavano cioè in un certo senso incuriositi dal titolo perché pensavano di trovare quello che ha trovato il mio filosofo analitico critico cioè che andavano convinti proprio attraverso il ragionamento e la poi comunque se hai qualche suggerimento sui candidati diciamo all'equivalente della differenza lo cerchiamo insieme per quanto riguarda Laura allora la la risposta nel libro è in parte contenuta nell'ultimo capitolo quello dedicato a In the World il più grande creatore è Laura post romantica che diciamo dimostra con la stessa arte che Laura può essere l'effetto da Laura può essere può essere costruito ad arte e che quindi diciamo potremmo concludere che effettivamente l'uso che ne faceva il Benjamin più romantico diciamo comunque quello che associava Laura all'unicità dell'esperienza e alla sua dimensione sacrale fosse in realtà appunto vittima nella definizione del concetto ancora di una concezione dell'arte vicina alla dimensione del sacro e soprattutto appunto all'idea della sua omicità e non riproducibilità e che invece in realtà si possa chiamare Warhol la chiamava così per questo anche che uso il termine in maniera non profanatoria c'è quel famoso passaggio della filosofia di Andy Warhol dove dice tutti mi fermano e mi chiedono come possono comprare la mia aura allora io mi sono chiesto che cos'è l'aura e poi vabbè come sempre cerca di abbassare ironicamente la discussione dicendo che l'aura è quella cosa che hanno le persone quando non le conosce poi quando finalmente le conosci non la vedi più però insomma in realtà a parte questa considerazione sociale molto banale diciamo postiana addirittura c'è quella più legata alla dimensione sensibile che è la diciamo la costruzione del glamour possiamo chiamarlo così all'interno della nostra società e di un'epoca in cui il prestigio ha perso la sua dimensione immediatamente verticale ed è diventato qualche cosa di più legato alla società di massa e in particolare i meccanismi ci sono un po' di analisi comparate dei due termini una l'ha fatta John Berger per esempio molto buona secondo me dove dice la differenza tra il prestigio aristocratico e quello dei quadri di Van Dyck insomma quello che cercavano le classi dominanti affidandosi agli artisti e quello di oggi delle star del cinema eccetera è la perdita di questa dimensione verticale e la perdita a livello rappresentativo ed espressivo della componente stoico distante cioè il glamour cerca e accattivante seduce dicendo sei come me ma allo stesso tempo ancora non sei come me e gioca sulla componente anche erotica quindi fisica diversa insomma comunque tornare più alla questione l'aura come effetto di distanza creato attraverso strumenti di un effetto artistico che usa la stilizzazione usa i colori usa la e gioca soprattutto sulla riproducibilità paradossalmente cioè un'aura che è costituita dalla sua moltiplicazione invece che dalla rivendicazione dell'unicità di un'esperienza e oltretutto un'aura contaminata secondo il cliché romantico dal suo uso commerciale perché sempre in maniera provocatoria e cinica Warhol dimostrava che a lui si rivolgevano sia i diciamo i già famosi che volevano perpetuare questo loro questo loro glamour questo loro prestigio sia le persone che ancora non ce l'avevano gli arricchiti e che sentivano che gli mancava un elemento di legittimità sociale legato appunto alla percezione della rappresentazione comunque insomma direi io andrei a cercare per ridefinire il concetto anche in questo caso forse va ridefinito allora cioè se 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 non so chiedo anche a te perché le suggestioni che leggi in Benjamin nel Benjamin più diciamo più aperto all'appunto al cinema eccetera sono di che genere come le definiresti ma no pensavo indubbiamente che va ripensata va ridefinita questa nozione va anche sottratta appunto quella vulgata no schematica per cui prima c'è una roba c'è un'epoca uratica una relazione uratica con le immagini il raccoglimento la contemplazione poi dopo arriva la fotografia e poi il cinema la aura non c'è più in realtà è piuttosto declinazioni di aura differenti declinazioni di aura differenti e dal momento che l'aura non è tanto una proprietà ontologica quanto piuttosto una correlazione dello sguardo secondo me proprio leggendo le tue pagine mi mi veniva assolutamente alla mente questa necessità di ripensarla in termini plurali e di sottrarla definitivamente a quel a quel a quel dualismo quella dicotomia che se vai a leggere bene Benjamin non c'è in Benjamin però appunto nella vulgata beniaminiana che poi quella che per lo più diffusa è appunto prima c'era poi non c'è più e allora dopo adesso cosa succede? Il tuo libro dimostra esattamente il contrario che anzi c'è una auraticizzazione diffusa pervasiva e la dimensione magica proprio che è esattamente quella dimensione che ad uomo gli rimproverava di affibbiare all'arte auratica no no tu stai troppo appiccicato all'arte intesa come culto come cult verta come valore di culto come magia come religione guarda che già Hegel aveva detto che l'arte è arte quando si emancipa dalla dimensione del religioso ma in realtà il pellegrinaggio al museo anche in epoca iper riproducibile come la nostra o il pellegrinaggio all'expo sono dei riti che hanno molto a che fare con la dimensione teologica e religiosa evidentemente quando si entra in un negozio in uno store apple credo che non ci sia no ma è vero in un apple store soprattutto poi se è nuovo ancora non l'abbiamo visitato è una cosa no è un'esperienza totale a questo punto di vista ci sarebbe da volendo fare una storia delle idee veramente completa che in parte avevo abbozzato nel saggio che tu conosci quello sulla storia appunto del termine aura in relazione all'ambiance là mi era stato chiaro all'improvviso che c'è un'aura oggettiva noi siamo abituati a pensare soprattutto questo il problema di beniamine c'è l'aura che si associa a un certo tipo di esperienza di esperienza estetica o anche addirittura un oggetto una persona mentre invece c'è l'aura soggettiva che è l'esperienza auratica che lui descrive quando descrive le esperienze con l'ascis eccetera e che ha tutta una tradizione di pensiero legato alla storia della medicina e alla storia della psicologia la storia dell'isteria il baraduc che faceva e l'aura emicranica poi appunto stiamo arrivando a questo noi emicranici sappiamo benissimo che cos'è che è l'esperienza di passaggio da uno stato a un altro in cui si sono dei segnali premonitori e l'aura è questa specie di esperienza di transizione che può essere dal positivo al negativo ma anche dalla malattia alla guarigione al ritorno alla vita e alla primavera e quello è tutta un'altra cosa è interessante per fenomenologi psichiatri l'aura dei luoghi quando si entra in un luogo che puzza per esempio negli ospedali sono cose che hanno studiato i tedeschi i psichiatri fenomenologici però insomma quella diciamo che noi siamo abituati ad associare alla questione della riproducibilità tecnica è l'aura appunto legata all'esperienza estetica legata in particolare a un oggetto comunque a un'opera che l'ha suscitata quella sembra accompagnarsi ad essa e da quel punto di vista il mio approccio antropologico mi fa pensare che cambiano ovviamente tutte le configurazioni gli elementi più o meno decisivi eccetera però l'idea che l'aura sia qualche cosa e anche il carisma se vogliamo mettercelo in mezzo che ha a che fare con ciò che si vede ciò che si percepisce ciò che ci colpisce sensorialmente non me la tolgo ecco cioè su questo vedo un sostratto di continuità naturalmente che si declina in ogni in ogni contesto storico e sociale attraverso forme in cui gli equilibri cambiano certe cose sono meno importanti perché il centro della vita sociale è un altro adesso sicuramente si è ritornati a secondo me a un momento molto interessante sarebbe anche pensare che rubo ancora non voglio monopolizzare la discussione ma rispetto invece alla necessità o alla ipotesi di trovare un termine alternativo all'apparenza era la mia una domanda tutto sommato molto poco simmeliana perché come ci siamo resi ben conto anche tu e io durante il lavoro all'antologia stile moderno Sim non ha mai inventato una parola nuova e ha sempre usato anzi mi rimproverava lo solito adorno che non esiste una terminologia filosofica in Sim quindi anch'io ho una diffidenza nei confronti dei filosofi che pensano che fare filosofia se tutte le volte inventarsi delle parole nuove tendenzialmente poco comprensibili però ciò nonostante era una domanda che mi ero posto leggendoti sono d'accordo e ci penserò seriamente grazie bene allora passiamo la parola per la prossima domanda Barbara Grespi ciao Barbara grazie della bella presentazione dunque sì come sai ho molto apprezzato la versione italiana del tuo volume ma non conosco ancora quella inglese e mi interrogavo anche stante la tua chiusa su Marilyn sul ruolo dei media chiedendomi se nella tua prospettiva di appunto costruzione delle apparenze ci sono anche dei margini per ripensare i media in modo diverso almeno non coincidente con non affidandogli quello stesso ruolo forse eccessivamente meccanico che una certa sociologia a lungo ha affidato ai media e ad esempio mi chiedevo se quello che dice Plesmner a proposito della prestazione di carattere imitatorio che è qualcosa che non sempre passa attraverso l'assunzione di modelli l'assunzione cosciente intendo di modelli ma è più una questione quasi appunto bioestetica mi verrebbe da dire può essere è stato forse può essere uno dei percorsi attraverso i quali anche capire la modellizzazione generale insomma delle apparenze che all'interno di una società si genera grazie grazie anche su questo diciamo il lavoro in gran parte ha ancora tutto da fare sicuramente una della un'idea soggiacente o comunque forse alcune volte addirittura lo dico in maniera esplicita comunque che la mediazione è presente in ogni forma e anche in forma non strumentale cioè semplicemente nel rapporto del corpo con se stesso a cominciare dall'autopercezione dell'autospettatorialità e uno specchio o un ruscello in cui ci rispecchiamo è già da questo punto di vista uno dei primi media fondamentali della 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 costituzione del sé ovviamente lo sviluppo più che intenso è accelerato che i media hanno assunto negli ultimi 50 anni in generale l'ultimo secolo e mezzo con con le loro dinamiche specifiche ecco può essere letto da un lato in continuità antropologica con questo cioè per evitare anche in questo caso il malinteso francofortese cioè in media hanno introdotto l'allenazione mentre prima ci sarebbe stata una sorta di esperienza più vicina all'origine più vicina all'immediato più vicina all'interazione spontanea Simmel da questo punto di vista è un grande insegnante perché lui vedeva come anche nelle interazioni apparentemente più spontanee e più quelle che il senso comune ci fa ritenere quelle più vicine appunto alla natura alla vita del villaggio alla comunità tradizionale appunto fossero in realtà fatte da strati all'immediazione continua è vero però ecco che sicuramente la società contemporanea e ancora di più ogni singolo medium con la sua come dire struttura specifica con la sua portata sociale specifica introduce una differenza che interviene nel modificare nel costituire poi il soggetto e le relazioni sociali a suo modo quindi si potrebbe fare appunto un'analitica già con i singoli sensi fatta poi attraverso i singoli media come ognuno di questi interviene nella riconfigurazione e nella mediazione delle mediazioni a un livello sempre più astrato una cosa su cui concordo con Simmel e con i teorici sociali come Luhmann che si diciamo situano un po' nella sua direzione è che sicuramente il mondo contemporaneo che io definirei ancora moderno o ipermoderno ma comunque diciamo che non ha interrotto queste dinamiche della modernità va verso l'innalzamento della dimensione speculativa nel senso finanziario cioè di allontanamento da una presunta aderenza o sensazione di aderenza nei confronti delle esperienze mediata Simmel descriveva questo processo nella filosofia del denaro dicendo che il denaro in generale la modernità è l'aumento a dismisura delle mediazioni ci si allontana i mezzi diventano sempre più importanti dei fini ci si allontana sempre di più da una presunta immediatezza dell'esperienza del vivere e quindi viviamo all'interno di una rete di rapporti sempre più complessa e secondo me questa è una diagnosi ancora valida e che oltretutto appunto l'avvento dei nuovi media dei media contemporanei ha complicato ulteriormente il digitale rende addirittura ha perso completamente anche l'idea che ci possa essere un rapporto diciamo di alienazione progressivo rispetto a una presenza immediata quindi ci stimolano a pensare appunto alla luce della mediazione totale Derrida probabilmente aveva capito tutto cioè la fine quella prima diagnosi negli anni 60 si è dimostrata poi quella giusta questa è la mia però sarebbe molto interessante appunto collaborare poi dopo in maniera concreta con gli specialisti e con chi vede all'interno del suo campo problemi e questioni specifiche legate poi ai singoli problemi grazie veniamo adesso alla domanda di Chiara Cappelletto ciao Barbara ciao Chiara ho due cose non ho letto ancora il rifacimento americano quindi ho due domande che mi nascono dalla tua versione italiana e da quello che dicevi adesso la prima sarà che gel ancora mi è nella testa ma quanto per te la tua estetica dell'apparenza sociale è urbana quanto è metropolitana perché tu facevi riferimento per esempio ai social media però i social media sono in fondo uno strumento che in società assolutamente non urbane sono stati e sono molto usati per una comunicazione a distanza addirittura in culture orali per iniziare a scriversi come dire trascrivendo una lingua che è rimasta solo orale che attraverso facebook viene invece trascritta e viene comunicata quindi quanto tu puoi pensare di prendere il metodo il canone e trasferirli in strutture sociali che sono non metropolitane e poi l'altra cosa che ti volevo chiedere da tempo tra l'altro è quanto per te quanto la tua apparenza è visiva perché a un certo punto parlavi degli odori ma quanto sei disposta a far entrare tutta una dimensione corporea tattile olfattiva che quindi richiede anche gradi diversi di prossimità nell'idea di apparenza sociale o quanto questo in qualche modo ha più a che fare con un altro tipo di relazione per te grazie grazie Chiara sulla prima ti rispondo semplicemente rivendicando anche per una questione di modestia ma anche di fattibilità delle cose cioè il modo in cui ho cercato di declinare il problema è molto simile al modo in cui in fondo l'aveva impostato Simmel cioè una base antropologica generica ma di fatto un interesse per la modernità occidentale per come si è manifestata in particolare diciamo dal 700 alla fine agli inizio degli anni 2000 ovviamente Simmel non aveva questo arco temporale quindi l'idea di poter applicare queste intuizioni o l'apparato formale ecco anche a realtà non urbane o anche semplicemente a realtà non occidentali eccetera ovviamente valida all'Ecole io parlo un po' con gli antropologi e ho visto che sono molto interessati di partenza perché riconoscono appunto i loro oggetti eccetera però lungi da me l'idea di mettermi a non avrei proprio gli strumenti neanche lo sguardo quindi il percorso che io propongo nel libro che finisce con Warhol come l'interprete cioè quello che in un certo senso attraverso la sua concezione proprio dell'arte e della socialità perché l'interesse di Warhol è che era un socialite e allo stesso tempo un artista dell'estetica sociale che creava appunto l'identità l'ontologia sociale quasi in un certo senso dei soggetti mi interessa perché diventa un po' il culmine in un certo senso la sintesi di tutto questo percorso e questo percorso appunto io lo farei iniziare per tappe ideali col 700 l'epoca della sociabilità e della tarda società di corte quindi il primo elemento della modernità e la corte come avevano già intuito tra l'altro Elias eccetera cioè il luogo dello sguardo reciproco e dell'invenzione della moda e comunque di quel tipo di teatralità concorrenzial mimetica che ha impostato un certo tipo di società soprattutto appunto francese poi poi le corti sono italiane all'origine quindi appunto la genealogia vale tranquillamente anche per il nostro paese poi c'è il momento diciamo protometropolitano appunto tra il passaggio dai due secoli quindi con la nascita con la città in un certo senso ingloba questo esimere invece le dinamiche teatrali facendone come dire lo specifico della forma di vita urbana quindi hai ragione io parlo soprattutto di questo e poi direi c'è una nuova fase in cui all'elemento urbano geografico in sito si aggiungono effettivamente i media e il loro contributo che allarga e naturalmente cambia anche la configurazione spaziale della cosa però per quello che conosco e quello che cito non tantissimo si tratta di appunto di esperienze che facciamo quelle che possiamo fare noi o vediamo fare i nostri ragazzi adolescenti ecco insomma questo penso e la moda penso a quello penso a disattivata e attiviamo la ok no perché volevo se posso solo per chiacchierare con te su questo che stai dicendo vedo benissimo il percorso mi chiedevo pensando al futuro e l'apparenza sociale del futuro come questo approccio qui si può confrontare per esempio con tutti gli studi decoloniali cioè con quella con quel tipo di di approccio di dialogo lì non che ti debba per forza interessare ma mi chiedevo come per esempio all'école questo sia o non sia un dialogo in corso nelle decoloniali in che senso per esempio l'approccio più ovvio potrebbe essere quello di studiare per esempio il modo in cui il sistema delle apparenze occidentali ha imposto la sua egemonia su quello nativo oppure comunque quello cioè e comunque leggere lo scontro dal punto di vista dei codici simbolici anche delle diverse forme di 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 espressività e di modo in cui queste sono sono immediate cioè non lo escludo però guarda ho avuto una discussione che ha toccato questi temi con Eva Illuz che mi diceva che secondo lei appunto la dimensione della critica del potere ecco diciamo evidente per quello che può avere per i gender studies nel senso che è ovvio che anzi sembra quasi in un certo senso l'approccio di una Judith Butler eccetera se hai preso la lettera poi lavora su questo insomma sull'aspetto che tu definiresti performativo poi di questo elemento teatrale e di e di apparenza sul sul postcolonial forse non è la dimensione prioritaria che mi mi verrebbe in mente oppure invece sì perché per esempio ho dei colleghi che mi hanno detto che la questione della diffusione delle serie televisive in contesti non so di villaggi africani che sono è molto interessante perché li vedi come la cultura locale interpreta poi al suo modo e si riappropria di principi che per noi sono univoci o comunque di un tipo di codice simbolico ed espressivo che per noi ha un solo senso che lì viene reinterpretato secondo la tradizione locale ecco però anche lì in questo caso quando si fanno queste ricerche più di contesto secondo me ci vuole veramente la collaborazione di uno specialista qualcuno che conosca il terreno perché altrimenti si rischiano di dire delle cose un po' un po' banali però come per l'antropologia perché no è assolutamente non non chiudo anzi e sulla questione del visivo questo invece proprio ammetto che è una che è una tensione del libro che allora nell'ultima parte rispetto alla versione italiana c'è tutto questo tentativo di analitica dei sensi in cui appunto mi sono resa conto che l'intuizione originaria del lavoro era a dominante visiva lavoravo su Goffman avevo letto Bourdieu insomma è chiaro che sono tutti però per esempio Bourdieu e Giaco il fatto di mettere il gusto al centro del suo lavoro aveva una doppia dimensione cioè dove il gusto diventava il gusto però estetico diventava però ci sono tante osservazioni sulla questione della cucina ruolo della cucina eccetera quindi mi sono resa conto effettivamente che avrei dovuto chiamarle probabilmente immagini e però allo stesso tempo una volta affrontata o fondata la dimensione antropologica diventava molto interessante invece interessarsi a tutti i singoli sensi alla loro cooperazione alle sinestesie eccetera e quindi mi sono poi di fatto limitata a dare a fare a scrivere un lungo capitolo sulla questione dell'olfatto e del senso orale per dimostrare come mentre appunto una lunga tradizione di pensiero sociale riflettuto sull'immagine ciò che gli altri vedono ciò che gli altri non vedono eccetera ci sarebbe appunto con i sensori stadis come si chiamano oggi tutta questa collana di questa serie di studi culturali che approfondiscono sia per contesto che per che per che per singolo senso insomma che interessa la specificità di queste esperienze naturalmente appunto sono tutte cose da declinare e che possono portare poi dopo intuizioni e anche lavori empirici molto molto interessanti insomma io ne ho seguita una ecco per far vedere soprattutto quello che si poteva il genere di questioni che si potevano aprire dal punto di vista filosofico grazie sentiamo adesso Giancarlo Grossi sì grazie Barbara a me io mi proietto un po' il futuro nel senso che mi interessa tantissimo quest'idea che hai accennato della città come categoria estetica in un certo senso e in particolar modo l'idea di Milano come come categoria sia estetico sociale in cui mi sembra quasi di intuire che c'è quasi un superamento diciamo di questo dualismo nell'idea di Milano tra esterno interno o allo stesso tempo cioè mi chiedo anche a quale periodo storico sia ancora Milano se la consideriamo come una categoria estetica non so un po' come la Parigi di Benjamin era legata al XIX secolo guarda ti ringrazio moltissimo la domanda perché è proprio come dire il libro l'ho concepito comincia così il Milano cioè l'idea è il Milano capitale della ricostruzione del dopoguerra poi sostanzialmente cioè gli anni in cui gli architetti ma soprattutto i designer fioc come dire piombano a Milano e usando la diciamo sfruttando la circostanza tragica della città pesantemente bombardata e di una città oltretutto che non solo non ha mai avuto un patrimonio estetico comparabile a quello delle altre città d'arte italiane ma sempre diciamo una bella città ma che non aveva diciamo la specificità di Venezia o di Firenze o di Roma e che si è sempre rapportata attraverso la sua storia specifica al nord inventano la modernità milanese cioè Milano diventa la prima la città che sperimenta e che di fatto progetta la modernizzazione italiana che come sapete noi siamo il paese che ha avuto dal punto di vista della rivoluzione industriale di quello che i sociologi chiamano il processo di razionalizzazione di modernizzazione l'avvio più tardivo è cominciato qualcosa alla fine dell'ottocento poi c'è stato il momento fascista che ha accelerato molto dal punto di vista architettonico e poi di tutte le infrastrutture eccetera ma poi soprattutto il momento clou è stato gli anni cinquanta e gli anni sessanta e questo non a caso appunto è il momento in cui gli architetti ma soprattutto i designer perché si definiscono così con la concezione totale modernista del design dal cucchiaio alla città cioè ciò che progetta non importa la taglia ma importa l'idea realizzare l'industrializzazione e di fatto la nascita del consumismo in Italia quindi c'è tutta questa generazione di designer di sinistra che pensano che facendo le cose progettando la forma giusta delle cose modereranno i bisogni irrazionali e allo stesso tempo porteranno il comfort e il lusso che prima appartenevano solo all'elite alla massa e alla società di massa poi questo è un periodo che è durato molto poco già alla fine degli anni settanta tutta questa generazione pensate a Enzo Mari comincia a dire no in realtà il consumismo ha vinto e stravinto perché è nell'interesse della produzione quella di moltiplicarla non di contenerla e quindi questo sogno poi dopo c'è tutta la questione dei radicali che contestano questo momento eccetera però ecco secondo me Milano ha una matrice modernista che si situa in quel periodo del dopoguerra quando la appunto questa occasione della ricostruzione diventa il sogno di una città nuova di fatto che guarda a nord moderna mentre che si distacca tra le altre dalle altre città e che vive in un certo senso assume rivendica la sua natura industriale e commerciale la linea rossa della metropolitana diciamo interessante come chiave di lettura anche allegorica e simbolica della città perché se ci pensate è curioso una linea 1 della metropolitana che non ha la stazione che non collega nessuna stazione quindi non collega la città al mondo esterno ma unisce il polo di Sesto Marelli di Sesto San Giovanni dove si producono la gomma e la pirelli eccetera alla fiera campionaria cioè la linea 1 è stata pensata con questa linea diretta tra produzione e fiera internazionale esportazione delle merci come se Milano si aprisse al mondo non attraverso i treni attraverso gli aeroporti ancora come sapete la metropolitana non collega agli aeroporti ma attraverso la merce attraverso la sua produzione di merci e secondo me è uno statement sulla natura della città straordinario perché già come dire c'è un piano dietro che è quello di rivendicare questa natura che è rimasta diciamo tutto allora fino se proprio volete un anticipo sulla cosa tutto rimane più o meno coeso grazie anche alla forte componente di sinistra che c'è in questa in questa estetica sociale perché è tutto alimentato e nutrito fino alla appunto agli anni agli anni 70 poi gli anni 70 interrompono ovviamente per ragioni di altro tipo c'è il terrorismo e poi c'è il momento diciamo i socialisti e la poco a poco nascita di Berlusconi in cui tutta questa estetica civile perché lì c'era l'idea che farle farle cose belle o farle razionali disegnarle secondo un concetto razionale era anche automaticamente fare riforma sociale fare una riforma sociale in senso socialista la metropolitana viene pensata durante la prima amministrazione di viene aperta durante la prima amministrazione di centrosinistra negli anni alla fine degli anni 70 c'è lo scollamento cioè è come se l'elemento estetico rappresentativo diventasse privo di etos ma forse questo è una come dire il destino del nostro tempo cioè non c'è da moralizzare però c'è da riconoscere e diventa un'altra cosa diventa la Milano da bere cambia i suoi codici però la pubblicità l'elemento pubblicitario diventa sempre più scorporato dall'oggetto è sempre più legato agli stili di vita alla promozione di stili di vita appunto Milano da bere eccetera e poi c'è la storia diciamo che arriva fino ai giorni nostri però sicuramente c'è una costante che è questa secondo me questo binomio fortissimo tra estetica sociale cioè tra un'estetica non è semplicemente di come si vestono i singoli insomma ma che proprio riguarda l'enorme elemento sensibile e la sua natura appunto il suo tipo anche a livello dell'architettura questo razionalismo moderno che riguarda poi l'80% della città insomma e che ne fa un po' la sua aura triste a volte grigia però allo stesso tempo è questo genere di cose che sto cercando di far venire fuori mi direte voi poi se la lettura della città è plausibile sicuramente mi sono detta concludendo concludendo la prima versione delle apparenze sociali che avevo scritto questo libro anche perché venivo da questa città cioè era un bisogno di riflettere su qualche cosa che appunto sapevo essere importante o comunque determinante perché l'avevo ero stata educata ad agguardare queste cose e appunto quando ho scoperto la cosa della metropolitana che era stata trasformata che era stata ristrutturata male che avevano cambiato il pavimento di gomma Pirelli mettendoci il pavimento bianco scivoloso mi sono detta il mio corpo l'ha sempre saputo che c'era un design fatto in un certo modo non ci ho mai pensato ma il mio piede lo sapeva infatti quando non c'è più stato l'ha riconosciuto e quindi insomma questo è un po' stato l'elemento che ha fatto declancher la cosa comunque fa tenerezza perché c'erano le cartoline le cartoline del 64 dove c'era l'apertura non erano proprio glamour insomma però c'erano le fermate della metropolitana come la grande attrazione moderna della città i turisti i turisti si mandavano la cartolina con la metropolitana che poi è interessante perché già il nome sinonimo della città come se la città fosse il suo sistema di trasporti veloce e omogeneo grazie non vedo l'ora di leggerlo mi interessa moltissimo va bene allora penso che sì rimane tempo quindi abbiamo un'ultima domanda ancora via Andrea Pinotti senti oggi va di moda l'analisi quantitativa estetica delle occorrenze dei numeri del numero di volti in cui compare un autore piuttosto che un altro come indici ovviamente significativi e io facendo un'analisi comparativa della versione italiana e della versione americana vedo che nel passaggio alla ultima versione Proust scende e Pirandello sale è vero sì Pirandello che peraltro per molti di noi è un autore che affrontiamo sui banchi di scuola e del liceo ma poi abbandoniamo in fondo come autore di riferimento non è immediatamente appartenente al al gota delle firme che di solito anche come estetologi prendiamo in considerazione Proust non meraviglierebbe nessuno ma c'è una forte presenza di Pirandello sempre più forte nella tua riflessione diciamo l'ascesa di Proust è dovuta anche al fatto che il contesto cambiava il pubblico cambiava fare quei riferimenti così precisi interni mi dispiaceva in parte però comunque forse non aveva più senso ed era più interessante parlare di un appunto di World ecco per far vedere poi di fatto dinamiche simili e analizzarne la versione specifica su Pirandello è stata proprio una come dire una rilettura ulteriore che mi ha uno mi ricordo ne abbiamo già parlato insieme a proposito della questione del selfie ci siamo detti tutta stita le antiri che gira ma è possibile che abbiamo uno dei più grandi filosofi teorici italiani che parla oltretutto del contemporaneo perché voglio dire uno nessuno e centomila praticamente potrebbe essere letto a scuola per come dire per avere un'idea o dare una riflettere sulle la posta in gioco nell'alienazione della propria immagine dal punto di vista esistenziale ma anche dal punto di vista dei media perché poi dopo Pirandello ne ha riflettuto sul cinema sull'attore privato della sua immagine l'ha letto Benjamin infatti lo cita eccetera e quindi appunto è diventato un nutrimento di quel capitolo in particolare perché appunto mi ero veramente sinceramente ammirata dalla finezza e profondità e mi sono anche detta che forse poi non era un caso se Levit Plesner stesso Benjamin cioè tutti i tedeschi che riflettevano su questi temi contemporanei l'avevano subito captato e se l'erano grazie anche alla questione vabbè della familiarità di Pirandello col tedesco eccetera però insomma l'avevano immediatamente messo nel loro canone degli autori filosofici dei letterati filosofi e noi ci permettiamo di considerarlo un autore da scuola da scuola media forse al massimo da liceo ma quasi con una no? con una considerazione di ingenuità e quindi si entra Pirandello esce e esce Proust Bene allora se se non ci sono altre domande che spuntano fuori ricasserei allora di nuovo la parola ad Andrea Finotti che poteva a questo punto tenersela e per ringraziare di nuovo Barbara Carnevali sì appunto solo per ringraziarti di cuore per questa chiacchierata molto molto bella e ha toccato molti dei temi che intersecano la nostra riflessione la nostra ricerca avremo modo di continuare questa conversazione spero in un prossimo futuro grazie a tutti i partecipanti se vi vengono in mente dei candidati al nuovo le apparonse potrebbe essere la soluzione del ridiano la paronza lanceremo una call for concept una call for term benissimo allora grazie ancora Barbara grazie a voi di tutte le domande buon viaggio di ritorno a Paris e grazie a tutti per la vostra partecipazione alla prossima puntata su questo canale di zoom in buona serata a tutti grazie ancora ciao grazie 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 a tutti